We are beautiful, wanna get some! Ogni anno in Italia 1380 bambini si ammalano di cancro e con loro 780 adolescenti. Nella giornata mondiale della lotta al cancro infantile il Ministero della Salute pubblica i dati riguardanti i passi avanti compiuti fino ad oggi. Nel 1970 soltanto il 40% di loro aveva probabilità di guarigione. Oggi invece tale probabilità raggiunge l'80% e in alcuni casi il 90%. Questa giornata simbolicamente rappresentata dal lancio di migliaia di palloncini bianchi in aria vuole ricordare l'importanza della ricerca e la sensibilizzazione verso i più piccoli e anche i loro genitori. Verranno lanciati circa 8000 palloncini, a Pescara sono 500 palloncini da 4 scuole diverse, inclusa quella che è in ospedale ovviamente. E siamo qui appunto per questo. Le maestre sono state molto gentili, ci hanno unitato a fare sensibilizzazione. L'obiettivo appunto qual è? L'obiettivo è quello di arrivare possibilmente ad una mortalità infantile pari a zero. I volontari dell'Agbe, l'associazione che a Pescara dal 2000 si occupa di stare al fianco delle famiglie dei piccoli pazienti oncolomatologici, entrano nelle scuole per sensibilizzare proprio i bambini a questa difficile patologia che viene raccontata loro con l'obiettivo di non creare muri di separazione con i compagni che già vivono un fortissimo disagio. Sono venute due psicologhe, volontarie dell'Agbe e hanno sensibilizzato i bambini a questa problematica, soprattutto facendogli sentire che chi è in ospedale vive un periodo in una situazione di malattia, non è diverso da loro e che nei loro confronti va stimolata la sensibilità e soprattutto la solidarietà.